Buongiorno a tutti, benvenuti all'istituto professionale dei servizi commerciali Manfredi e all'istituto tecnico commerciale Tanari. Oggi vi facciamo visitare la nostra scuola. Adesso vi mostriamo l'ingresso principale e la dietro c'è l'atrio. Ecco, di qua abbiamo tutti gli uffici, mentre di là abbiamo la vicepresidenza. Questo è il nostro bar, che a causa del covid è chiuso, purtroppo. Adesso visitiamo i vari pieni dell'istituto. E questo è il nostro piano terra, dove ci sono alcune classi. E questo è l'altro lato del piano terra, dove ci sono grandi classi. Andiamo al primo piano. Questo è il primo piano dell'alto ferrovia, dove abbiamo laboratori e aglio. Questo è il laboratorio 5. Questo è il laboratorio 5. di informatica 1 e 2. Questo è il laboratorio 1 di informatica. Questo invece è il laboratorio numero 2 di informatica. Questo è il laboratorio 5. Luca dei cattoli. Andiamo a vedere il secondo piano. Questo è il secondo piano d'Alto Ferrovia e qui abbiamo aule e due laboratori di informatica Questo è il laboratorio di informatica numero 6 Questo è il laboratorio di informatica numero 4 Questo è il primo piano dell'Alto Felsina dove ci sono solo aulea Andiamo a curiosare a vedere cosa c'è dentro la seconda C E adesso andiamo a vedere il secondo piano Felsina E questo è il secondo piano dell'Alto Felsina in cui abbiamo un laboratorio e aule Questo è il laboratorio di informatica Andiamo a vedere cosa succede nella nostra classe In questo momento la Quintasia sta affrontando un progetto Andiamo a vedere l'Aula Magna Questa è l'Aula Magna che per quest'anno è stata trasformata in aula per la via dell'emergenza Covid E questa è la nostra bellissima palestra Ciao ragazzi Vi aspettiamo agli Open Day Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti